Gossip uomini e donne, la scelta di Niloufar a rischio, ecco cos'è successo A cancelletto uomini e donne la scelta di Niloufar a dati potrebbe essere a rischio. E questa l'ultima clamorosa indiscrezione che arriva dalla registrazione del dating show di questa settimana, dove la bella Niloufar a dati ha dovuto fare i conti con un addio che ha lasciato tutti senza parole e che potrebbe mettere in bilico la fattidica registrazione della scelta finale del suo percorso. Bufera uomini e donne, Niloufar nei guai, Giordano se ne va nel dettaglio Le gossip news su uomini e donne di queste ore rivelano che Niloufar durante la nuova esterna con Nicolò si è lasciata andare nuovamente alla passione tra lei e il ricco corteggiatore già protagonista del reality show Riccanza che è stato un bacio molto intenso e appassionante che ha mandato su tutte le furie l'altro pretendente Giordano. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Giordano Mosso dall'Ira ha scelto di andare via dallo studio e ha aggiunto che da quel momento in poi non sarebbe più tornato indietro. Insomma il corteggiatore di Niloufar ha scelto definitivamente di abbandonare la trasmissione e di quindi di tirarsi indietro proprio adesso che siamo giunti ad un passo dalla fatidica scelta finale. Un colpo di scena shock per la bella Niloufar che a questo punto si ritrova con un solo corteggiatore in studio, parliamo appunto di Nicolò, che tuttavia non sembrerebbe essere interessato al cento alla bella tronista. I fan di Uomini e Donne speravano o quantomeno si auguravano che anche questa volta tra Niloufar e Giordano potesse ritornare il sereno dopo lo scontro di questa ultima registrazione ma possiamo svelarvi che al momento non è stato così. Salta la scelta finale di Niloufar? Giordano ha trascorso le vacanze di Pasqua in giro per vari locali e in compagnia di Luigi Mastroianni, corteggiatore di Sara Affifella, con il quale è nato un gran rapporto di amicizia. Addirittura in un video che è stato postato in queste ore su social, Giordano ha dichiarato che Luigi è la cosa più bella di quel programma, sminuendo ancora di più il suo percorso con Niloufar. Il corteggiatore, inoltre, ha ribadito su social che il suo percorso a Uomini e Donne risulta definitivamente chiuso e a questo punto c'è chi ipotizza che la tronista possa anche decidere di non fare la sua scelta finale. Secondo Tina e Gianni, infatti, Niloufar si comporterebbe in questo modo perché il suo sogno proibito rimane ancora Lorenzo che ormai si è dichiarato per Sara. Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni Cancelletto Uomini e Donne Oggi. Cancelletto Uomini e Donne Oggi.